Insieme per ripristinare l'antica campana della chiesa San Francesco di Agropoli e questa è l'iniziativa di diversi cittadini e del parroco Don Carlo Pisani che insieme stanno effettuando una raccolta fondi. Quest'anno abbiamo voluto ripristinare l'antica campana del campanile a vela della chiesa di San Francesco che tempo fa era stato sostituito con un impianto elettrico, quindi con un suono falso di un disco. Ovviamente per fare questo ci sono una serie di interventi da dover apportare al campanile a vela, per ricostruire in parte la struttura che mantiene la campana e poi adeguarla con l'elettrificazione. Quindi questo comporta delle ingenti spese, insieme a questo poi anche la ristrutturazione della sacristia della chiesa di San Francesco. Quindi una serie di interventi che riguardano questa chiesa, prima che inizino i festeggiamenti, il novenario, che appunto sono il prossimo 25 settembre. Quindi il nostro appello a tutti coloro che volessero dare un contributo per ripristinare la campana della chiesa di San Francesco, possono farlo rivolgendosi in parrocchia, rivolgendosi a me oppure al comitato festa che si sta proprio occupando proprio materialmente della raccolta fondi. Nei prossimi giorni però dovrebbero già iniziare i lavori, perché siamo fiduciosi nella generosità dei nostri fedeli e nell'attenzione che tanti hanno verso la chiesa di San Francesco e che nutrono una sincera devozione verso il Santo di Assisi. Qual è la vostra richiesta ai cittadini agropolesi? Beh, è quella di ognuno, secondo le proprie possibilità, di aiutarci a realizzare questo nostro progetto e quindi permettere che dopo tanti anni ritorni nuovamente a suonare la campana di questa chiesa.